Avrebbero distribuito apparecchi elettronici del tipo Totem che si collegavano ai siti internet privi di connessione e consentivano il gioco d'azzardo e le scommesse illegali. Proprio per questo la Procura della Repubblica ed Egrigento ha rinviato a giudizio 24 persone delle 31 coinvolte nell'operazione eseguita il 12 marzo dello scorso anno. Ricordiamo che a scoprire il giro di gioco d'azzardo e le scommesse clandestine fu la Guardia di Finanza. I reati contestati agli indagati sono associazione per delinquere, scommesse clandestine ed esercizio abusivo del gioco d'azzardo. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 20 ottobre dinanzi al secondo collegio penale del Tribunale di Egrigento. Il gruppo del Tribunale di Egrigento, Francesco Provenzano, ha rinviato a giudizio i licatesi Vincenzo Corvitto, 40 anni, Angelo Tardino, 33 anni, Luca Parenti, 26 anni, Sergio Cantavenera, 37 anni, Calogero Marco Camilleri, 33 anni, Salvatore Bonelli, 25 anni, Donato Rizzi, 29 anni, Evelyn Grillo, 39 anni, Teresa Corvitto, 39 anni, Melchiorre Bruna, 39 anni, Salvatore Morello, 30 anni, Angelo Esposito, 23 anni, Angelo Vitali, 34 anni, ed Alessandro Aronica, 30 anni. Rinviate a giudizio anche i campobellesi Angelo Lococco, 39 anni, e Luca Ciotta, 37 anni, i palmesi Gaetano Giovanni Farruggio, 38 anni, e Gioacchino Cottitto, 55 anni, Vito Giuseppe Brancato, 49 anni, di Ravanusa, e Davide Schembri, 39 anni, di Egrigento. Rinviate a giudizio anche Felice Carlo, 35 anni, di Conegliano, residente a Salemi, Angelo Gaetano, 51 anni, di Salemi, residente a Marsala, Salvatore Spampinato, 37 anni, di Catania, residente a Licata. Il non luogo a procedere è stato disposto invece nei confronti dei mazzaresi Fabio Agnello, 33 anni, e Alberto Lopresti, 34 anni. Benedetto Bacchi, 42 anni, di Palermo, Alfio Mangion, 42 anni, di Catania, Antonino Gaetano, Epaminonda, 47 anni, di Catania, Cristiano Valenti Morando, 42 anni, di Erba, Luca Giovanni Impellizzeri, 43 anni, di Catania, e Dante Taranto, 31 anni, di Napoli.